Consumi energetici ridotti del 30%, rumori e vibrazioni minimizzati e molti servizi a bordo. La Regione Puglia dà il benvenuto al 46esimo treno elettrico regionale di nuova generazione che completa la flotta nell'ambito del piano di investimenti di Regione Puglia e Trenitalia con l'obiettivo di arrivare a 50 treni entro il 2025. Questo è un lavoro che è stato fatto ovviamente nel tempo ma che consente sia a chi lavora ma anche ai turisti che apprezzano molto questi treni per godere di tutti quei punti di vista che non sono visibili dalle grandi strade, dalle automobili e quindi per noi è un elemento di grande felicità perché in questo modo abbattiamo il traffico automobilistico che è purtroppo sempre molto pericoloso. A bordo ci sono 500 posti a sedere, 8 stalli per le bici, bagno attrezzato, prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un'illuminazione led di ultima generazione. È una promessa mantenuta per Trenitalia. Abbiamo sottoscritto con la Regione Puglia un contratto che prevedeva tanti investimenti e 46 treni. sono arrivati tutti, sono arrivati nei tempi. Era un importante investimento da parte di Trenitalia ma anche da parte della Regione e poi si sono aggiunti anche ulteriori fondi europei o fondi PNRR. L'obiettivo è raggiungere un livello sempre più alto nella sostenibilità dei trasporti migliorando al tempo stesso accessibilità intermodalità. Stiamo investendo non solo sul ferroviario ma anche sulla gomma proprio perché vogliamo rinnovare tutto il parco mezzi proprio perché riteniamo che l'elemento fondamentale che è quello della tutela dell'ambiente sia uno degli aspetti importanti che viaggia a fianco della tutela al diritto alla mobilità.